Questo è Andrea, chiaramente il primo sono stato io, vedi sono io il primo, però mi sono avvantaggiato in discesa, Andrea è un po' affaticato ma tutta finta, ecco il gruppo che arriva, vedete, ecco Fabrizio che è in calza, beh Nico, questi sono posti che devi venire in bicicletta con me, altro che andare su a Umbertide, questo è per mio amico, guarda qua, vedi qui si fa il sasso che ride, sai perché ride? Che quando siamo arrivati su siamo cotti, funziona molto, ci mettono tutti dietro, c'è niente da fare, c'è niente da fare, dighilo, dighilo, bravo Silvio, vedi che te me capisci, questa è la rota incriminata, saluta Pitoni, vedi, questo è il mozzo famoso, caro medico, 3200 euro di bicicletta, dieci volte, nove volte sono tornato a piedi, oh ma chi manca? il gengarello, manca il genga, ma non l'aspettate mai? Io pensavo che l'aspettavo, io l'ho aspettato, Dio sa, Pianino lo lasci sempre solo il tuo amico? Io mi ero fermato, si guardano anche le strade, vieni? Qui siamo a Colorio, poche parole, siamo ai confini tra gli Appennino, Tosco Romagnolo, ora si va su alle Valdazze, arriva? Eccolo! L'aspettato del gengarello è la curva numero 25, la curva al genganigno. Citti, ma non è se torna giorno oggi? Per me è se torna la mattina. Senti il gengarello? E se voleva andare a Fumaiolo? Senti che tempi c'era il genga, domenico? Quando venne cosa ti ricorda? Quando rompeste le catene? Quando rompeste le catene? Il tuo amico Pietro? Oh, dai Valdazze che c'è dietro? A Pratieghi si va. A Pratieghi? Eh. Tu lo dici? Gengarelli, come stai? Eh, sono. No, di Valdorado, bravo, bravo. Me lo disse una volta, io però non ce l'ho. Eh, non ne metto un altro. Una volta era in Statera, eh. Ma anche lui, ma c'era lì. Questa è la mitica FW al Dorado, guarda Roberto, guarda. Ma donna del Dio. Quel troiaio che ti ho venduto, tu dici un troiaio, vada, va, e io me ne pento, porca madosca. Me la ti rompeva? Bravo, bravo, diteglielo. No, vedi, è com'era, eh. Oh, era malino, andò è? Sì, è lassù. Ma che fa? Al castello. Al castello. È andato...